La cannella Mangia così la cannella per accelerare il metabolismo, bruciare grasso e regolare gli zuccheri Quando pensi alla cannella, sicuramente ti vengono in mente dolci o altre pietanze. Questa spezia, usatissima in cucina, viene impiegata da secoli anche nella medicina tradizionale, soprattutto nei paesi asiatici. Di seguito ti elenchiamo alcuni benefici della cannella, una spezia veramente terapeutica. Alcuni composti nella cannella possono aiutarci a perdere peso. È il caso dellaldeide cinnamica, che stimola il metabolismo e favorisce la combustione del grasso addominale. La cannella. La cannella dà anche energia e migliora lumore. Infiammazioni. I polifenoli della cannella calmano le infiammazioni cellulari e combattono contro i radicali liberi, limitandone i danni. Inoltre, possono ridurre il rischio di soffrire di malattie cardiovascolari. Per godere dei benefici della cannella puoi bere un infuso al giorno, oppure aggiungerlo alle tue pietanze. Perchog title. Perchog Ciao